Sì, è un'esperienza completamente nuova per me, perché praticamente fotograferò le persone che vengono a trovarci all'interno del ghetto, utilizzerò il ghetto proprio come un vero set fotografico, ho già individuato vari punti che mi intrigano e quindi da casa porterò poi di giorno in giorno un accessorio diverso che può essere un abito, un mantello, una maschera e niente, la utilizzerò con la persona che poi sceglierò di fotografare, per cui conto di fare almeno un ritratto al giorno e poi verrà fuori un progetto alla fine del mese e vediamo cosa succede.